cari amici dei gittanti gioiosi oggi è giovedì 2 settembre 2021 sono le ore 12 e noi vi facciamo vedere la bandiera al bivacco zamboni facciamo vedere la bandiera perché tutto il resto non si vede per poco il bivacco zamboni è quello lì poi ve lo faremo vedere bene ma ci siamo inerpiccati fino alla bandiera per farvi vedere lo skyline cominciamo a far vedere lo skyline verso passo san marco e lì c'è nebbia nuvole basse poi gira 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 il monte fioraro che qui sopra non si vede si vede invece il nostro scout gian carlo gian carlo sorridi sorridi ecco gian carlo che vi saluta e vi sorride e adesso io salgo a verso passo san simone però insomma voglio dire non è che si veda granché ecco si vedono bene i barecce vi facciamo vedere i barecce che sono i recinti per il bestiame che fino a che non avevano inventato i recinti di plastica venivano usati da queste parti sotto il bivacco zamboni qui c'è ovviamente il rifugio balicco dove finalmente riusciremo a pranzare al coperto perché a mezzogiorno del 2 di settembre non è che faccia proprio caldo caldo c'è una bella rietta e la temperatura non so quant'è ma insomma poi ve la scrivo sulla posta del sito dei gitanti gioiosi adesso qua il gitante gioioso vi saluta vi ringrazia per la vostra cortesia nello starci a sentire e vi dice a legger a legger che noi siamo sempre chi ciao